Era venerdì pomeriggio, un venerdì qualunque per Riccardo e i suoi amici, andati al parco della Madonnetta per trascorrere qualche ora insieme. Si era parlato originariamente di un malore, poi un risvolto imprevedibile. Riccardo cade a terra e muore. Riccardo non si è accasciato però mentre giocava o mentre faceva sport, come si era detto. Un uomo lo stava inseguendo e a quanto pare era anche armato, come racconta Alessio, l'amico che era con lui. Mi fai vedere, facciamo fitta io e te, no? Come ti camminava dietro? Con la bicicletta, lui invece con l'accetta in mano, stava proprio con l'accetta in mano. Come ho visto l'accetta? Ho visto sia l'accetta che lui di faccia, che l'ho riconosciuto. Ci siete messi paura? Ci siamo messi paura e abbiamo iniziato a correre mentre lui ci inseguiva. Quando ho visto poi che Riccardo non ce la faceva, mi fa, guarda regà non ce la faccio e mi devo fermare perché non mi sento tanto bene. E all'improvviso si è accasciato per terra davanti ai miei occhi. Ieri pomeriggio Daniela, la mamma di Riccardo, è andata al parco della Madonnetta per provare a capire, per ricostruire da sola con gli amici del figlio, quello che è successo quel venerdì pomeriggio. Gli amici mi hanno detto che scappavano. Scappavano perché erano rincorsi da un uomo che vive qua dentro con un'accetta in mano, in bicicletta. Quindi suo figlio potrebbe, tra la corsa e la paura? Io sottolineo, sottolineo potrebbe, però comunque la paura se l'era presa perché erano tutti e tre spaventati i ragazzi, però l'autopsia ancora non me l'ha detto. Quella donna, minuta e con gli occhi iniettati di sangue, è rimasta per ora all'interno del parco a chiedersi come fosse possibile che un ragazzo, in pieno giorno, venisse rincorso da un uomo con un'ascia. Daniela, con pazienza e allo stremo delle forze, chiama amici, conoscenti, avvisa il presidente del comitato di quartiere di Dragona e parla con gentilezza con i giornalisti. Vuole verità e pretende che la polizia arrivi sul posto. La persona che ha inseguito mio figlio stava qui adesso, con tutto che stava qui, non vengono. Non pare che non gli interessa, ma voi vedete come sta messo qui. Per giustizia, anche se non so veramente quello che è successo, però quando i nostri figli escono di casa e dicono vado al parco della Madonnetta, non ci deve essere questo, perché i ragazzi di 14 anni, anche un bambino piccolo, tranquillamente contra qua dentro. Qui siamo all'interno della struttura, della punto verde qualità della Madonnetta, ormai abbandonato da anni. Per entrare non abbiamo incontrato nessun ostacolo. Mamma Daniela si guarda intorno e sconvolta. Quello che è capitato al suo figlio si poteva evitare. Forse. Vuole che la polizia torni lì. Noi rimaniamo con lei e con una truppa di chi l'ha visto. Aspettiamo. Alla fine i poliziotti arrivano. Parlano con la donna e con gli amici del ragazzo. Stamattina gli agenti del commissariato di Ossia sono tornati al parco della Madonnetta e hanno prelevato un uomo. È un romeno di 54 anni. La sua posizione adesso è al vaglio degli inquirenti.